Inizieranno a dicembre i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di Curtarolo sul Brenta, un'opera necessaria per collegare le piccole e medie imprese dell'Alta Padovana alla città. Da anni ormai il vecchio ponte, usurato e poco sicuro, è vietato al traffico dei mezzi pesanti che trasportano più di 18 tonnellate, un divieto che però spesso non viene rispettato, tanto che la provincia ha monitorato la situazione rilevando oltre 357 infrazioni in tre ore. L'intera opera di rifacimento del ponte costerà all'ente di Palazzo Santo Stefano 4 milioni di euro. Il cantiere durerà un anno, praticamente la circolazione non sarà bloccata, ma sarà doppio senso di marcia sul lato sud, cioè sulla direttrice che in questo momento viene utilizzata da Padova verso Cittadella. In questo periodo si stanno ultimando gli espropi necessari per far partire il cantiere, il ponte infatti verrà posizionato a spinta, il vecchio manufatto invece diventerà una pista ciclopedonale. Quella diventerà una pista ciclopedonale perché quel ponte là che è stato fatto negli anni 60 non è antisismico, mentre paradossalmente quello più vecchio in mattoni, quello lato nord, è antisismico, e infatti noi andremo a recuperare i basamenti che hanno anche un vincolo della sovrintendenza delle belle arti e sarà completamente rifatto all'impalcato, quindi diventerà doppio senso di circolazione. Quello lì invece degli anni 60 sarà declassato a pista ciclopedonale, sarà ridotto e sarà utilizzato per la mobilità lenta, quindi bici. Quello lì invece.